Come Bonnie e Clyde avevano preso di mira una farmacia di quarto in provincia di Napoli portando a termine con successo una rapina per un bottino di circa 3000 euro. I coniugi per compiere la razzia si erano divisi i compiti. La donna sarebbe entrata a guardare la merce esposta fingendo interesse in realtà per capire se all'interno vi fossero presenze pericolose e l'uomo ricevuto a rassicurazione avrebbe fatto irruzione portando via tutto il denaro. Ma i carabinieri della tenenza di quarto che hanno avviato indagini subito dopo la denuncia del titolare della farmacia hanno identificato e sottoposto a fermo i due. Entrambi residenti a quarto e ora ritenuti responsabili della rapina perpetrata il 3 agosto alla farmacia sul corso principale del paese. I militari li hanno identificati nel corso di indagini partite con l'analisi delle immagini scaricate dal sistema di videosorveglianza. Nel filmato si vede la donna che tenendo in braccio la figlia di 7 mesi entra in farmacia simulando interesse per alcuni prodotti. Poco dopo si allontana senza comprare niente fermandosi pochi secondi a confabulare col marito che armato di pistole con il volto travisato fa irruzione nella farmacia terrorizza il titolare minacciandolo con l'arma puntata al volto e si fa consegnare tutte le banconote. Poi non soddisfatto afferra il cassettino del registratore di cassa e lo svuota freneticamente in un borsello disseminando monete e monetine sul pavimento prima di darsi alla fuga. Subito dopo l'individuazione i carabinieri hanno proceduto a perquisizioni personali e domiciliari rinvenendo e sottoponendo a sequestro gli indumenti che i malfattori indossavano durante la rapina e la pistola usata per minacciare il farmacista rivelatasi poi un'arma giocattolo trovata nell'abitazione dei genitori della donna a Napoli. L'uomo è stato poi portato alla casa circondariale di Poggio Reale mentre per la donna sono scattati domiciliari nell'abitazione dei genitori. In fase di convalida hanno ammesso le loro responsabilità davanti al GIP che ha convalidato il fermo e ha disposto la custodia ai domiciliari per entrambi.